grazie a Caputi e una buona giornata a Don Antonio Mazzi Don Antonio ci sei? Ciao, ciao a io per evitare riflessioni troppo impegnative come come s'ho sentito a voi faccio un volo, faccio un volo alto. Bello. Nella vita non contano i passi che fai né le scarpe che hai ma le impronte che lasci la vita contano le impronte che lasci, hai capito? Senti, Don Antonio, siccome c'è un po' di tempo, mi fa piacere quali sono le impronte migliori che hai lasciato tu? Le impronte di ieri Le impronte di ieri Le impronte di... no, guarda io non so se lascio le impronte, io lascio ragazzi che ho salvato pensando di non salvare mai e altri ho perso pensando che potevo salvarli e quindi le impronte che io lascio sono forse ecco un'impronta un'impronta di gioia ed un'impronta di dolore credo si ricordano vorrei che fosse un 50% ma non lo è forse le impronte dolorose sono mi fai salmare mi fai salmare non è giusto ciao 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 ciao